ciao a tutti e ben trovati sul mio canale in realtà ben trovati fino ad un certo punto perché quello che è mancato in questo periodo sono sono io colpito da una bronchite estremamente forte oggi parleremo di paesi pet friendly o pets friendly fate un po voi come volete dato che è un argomento molto richiesto insomma c'è una grandissima fuga di cervelli dall'italia cervelli non necessariamente comunque c'è tantissime persone che stanno emigrando altrettante persone che cercano o vogliono provare a svolgere la il mestiere di cinofilo all'estero e quindi emigrano emigrano e vanno come dire a cercare fortuna in altri paesi in il più delle volte in paesi pet friendly cercheremo di capire quali sono questi paesi pet friendly cercheremo di capirlo bene paragonandoli all'italia naturalmente detto questo però prima di andare alla sigla devo ringraziare e salutare i miei primi tre mecenati vale a dire quelle persone che hanno aderito sono sono tre sono eric costa che saluto e quindi sono coloro i quali permettono la produzione di questo video sono eric costa giorgio belfiori e salvatore qui mi devi aiutare te perché non so se io sia o io sia per chi non è a conoscenza del mio progetto patreon lo trovate in descrizione trovate il link dove andare ed è un modo per sostiene artibani se volete se non volete no va bene questo è un modo per sostenere il canale voglio comprarmi una telecamera come sta lei kubrick ce l'abbiamo io e lui incontro avvicinato del terzo tipo coi cani no veramente un progetto molto serio qualora vi piacesse andate a guardare il progetto patreon non lascia indietro nessuno cioè non lascerò indietro nessuno nei video che continuerò a fare su youtube però se dovessi raggiungere un determinato tipo di obiettivi per mezzo delle iscrizioni al mio progetto patreon piattaforma che in italia pochi conoscono all'estero sì negli stati uniti sì ad esempio in australia sì ad esempio in canada sì ad esempio nei paesi civilizzati è un modo per essere indipendenti e poter lavorare in un determinato modo io sono indipendente e ho una grandissima ambizione credo ci sia anche una la possibilità di trovare di fruit dei fruitori con i quali collaborare e farli diventare parte integrante del progetto ne ho già trovati proprio per mezzo di questa scoperta che sono i video youtube quindi grazie a voi ho trovato già delle persone disposte a collaborare questo mi ha rallegrato in modo incredibile quindi se volete andate su patreon trovate il link in descrizione e guardate se vi piace il progetto partirà dal mese che viene cioè in questi giorni su patreon io non pubblicherò nulla se volete saperne qualcosa di più andate link in descrizione e troverete tutti laddove qualora se non dovesse interessarvi potrete tranquillamente continuare a guardare i miei video spiando non spiando guardando tranquillamente insomma non è un problema nessuno resta indietro è solo per chi ha la volontà volontà di sostenere questo modo di intendere la cinofilia e magari perché no creare qualcosa di nuovo nel nostro paese magari dopo la sigla andiamo alla classifica dei paesi pet friendly se il tuo cane chiami pelosetto lui da grande ti darà un bel morsetto se gli metti il cappottino lui ti mangia un ditino ed eccoci qua siamo teoricamente un paese molto particolare per quanto riguarda il concetto di pet friendly vale a dire nella classifica non figuriamo proprio ma attenzione perché il video potrebbe darvi delle sorprese inaspettate voglio fare sapete che in letteratura c'è un modo di dire no non ingannare mai il lettore e io invece un po voglio ingannarvi in questo senso per quale motivo ad esempio prendiamo uno dei paesi sulle nuove classi su dei paesi che ultimamente risultano i numeri uno per classifica prendiamo tutta la penisola scandinava no il mondo della di questa new economy che in realtà non è una new economy perché se prendiamo la penisola scandinava quindi non so escludiamo la danimarca che sta un po' arroccata no sulla terraferma e un po della di là in italiano mi è scappato il romano prendiamo finlandia finlandia svezia e norvegia per diritti per diritti umani e animali sono paesi molto avanzati e molto particolari figli non di una new economy ma qui dobbiamo anche incentrare un po il discorso sull'economia perché contrariamente a quello che molti pensano i paesi della penisola scandinava vengono da un regime economico estremamente sociale per l'appunto di impronta e natura socialista sono molto vicini al cittadino e hanno imparato negli ultimi anni con una serie di industrie che hanno più o meno funzionato che vanno dalla dalla nokia io riprendo grandi linee non è che ora non entra o no perché la nokia invece la nokia ikea sappiamo più o meno che c'è stato un boom economico anche sotto questo aspetto ma in realtà la forza della penisola scandinava che è per l'appunto un posto dove molte persone stanno andando a lavorare molti italiani è sempre stato il tessuto sociale cioè la qualità il welfare quella qualità di vita che danno in italia si è persa e c'è una spinta molto importante di italiani che stanno andando a vivere in queste regioni vale a dire per l'appunto finlandia svezia norvegia posti bellissimi che consiglio a tutti di vedere quando avete tempo dove c'è dove si respira veramente modo di vivere diverso dove ci sono diversi campioni del mondo della cinofilia ufficiale non chiacchieroni del piemonte cioè persone veramente forti che fanno della cinofilia un qualcosa di serio ma c'è ancora oggi la possibilità di lavorare tanto quindi se qualcuno mi chiedesse a parte teatri particolari dove andare a svolgere la funzione di addestratori in posti che non siano i soliti noti che poi andremo a nominare i primi posti che andrei a toccare sono proprio quelli della penisola scandinava che a detta di tutti sono paesi pet friendly sfido chiunque a smentirmi in che senso sono paesi pet friendly ad esempio l'animale è ben accetto ovunque 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 fatta eccezione per quei posti dove c'è un pubblico ai quali potrebbe dar fastidio e qua c'è la prima differenza da noi ad esempio puoi prendere il tuo cane e portarlo in tutti i centri commerciali e tu li vedi il sabato pomeriggio questi cani che vanno nei centri commerciali italiani con i proprietari all'interno di marmi cose nei paesi scandinavi non è così eppure risulta alle persone più attente alla sensibilità dell'animale che la norvegia ad esempio è un paese che fa molta attenzione agli animali ed è qui che c'è la sorpresa perché avere un cane in norvegia lasciamo stare distretto per distretto no che non fa testo perché l'ha ogni luogo però c'è una direttiva che tu non puoi lasciare il tuo cane solo a casa per più di quattro o sei ore e già se lo fai è un per te e c'è anche una multa per te e probabilmente ti toglieranno anche il cane andiamo a prendere un altro paese considerato pet friendly che sotto questo aspetto è il peggior paese che io abbia mai incontrato però questo lo è realmente l'australia l'australia è nella sua forma come dire cartacea un paese incredibilmente pet friendly il problema è che gli addestratori in australia sono non delle capre perché offenderei le capre sono talmente indietro con l'addestramento che non conoscono neanche un metodo per fare un richiamo cioè io ho avuto modo di vedere delle cose in australia di persone che vivono c'è gente che diventa da uno scherzo su questa cosa lo scherzo io ho visto un impero di una famiglia costruita in australia di persone ripeto l'australia se pensate che non vi fanno entrare un cane dall'italia all'australia non ve lo fanno entrare c'è una quarantena lo devono analizzare le malattie tutto quanto finita la quarantena pagate voi 40 giorni di deposito del cane dopodiché il cane può entrare in australia magari tu vai in australia e io ho visto con i miei occhi con questi occhi questi occhi qua pensioni pensioni anche molto importanti che facevano mangiare i cani per terra cioè senza ciotole esternamente posti bellissimi quando si chiudevano le porte gli tiravano da magna per terra una cosa che non dimenticherò mai peraltro cosa che ho carta parla segnalato a diversi giornali del posto nessuno ha mai pensato di andare a dare un'occhiata quindi il peggior posto pet friendly che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita è l'australia dove qualunque tipo di incapace e l'australia è un posto bellissimo ma rimasto è dieci anni dietro dieci anni dietro dietro proprio all'umanità cioè dieci anni dietro a tutto un un cinofilo attento va in australia e si mette le mani nei capelli cioè perché te pagano tanto in australia perché non sono buoni quindi se dovessi consigliare un paese dove emigrare e lavorare con i cani sicuramente è l'australia la problematica dell'australia sono i visti perché se non hai un visto uno sponsor l'australiano non solo ti sfrutta ma ti mette nelle condizioni non di non guadagnare ma di rimetterci addirittura ma se al contrario hai i soldi e vuoi fare business o hai l'idea e uno sponsor in australia ti consiglio di andare lì perché fai i soldi a scatafascio perché perché è un mercato totalmente libero dove le possibilità in australia sono realisticamente oggettivamente infinite proprio perché non sono capaci per proprio non niente sono proprio buoni cioè non sanno fare nulla non è proprio niente io non ho mai visto una cosa simile cioè di una ignoranza cinofila che è una cosa io sono veramente uno di quei posti che mi ha sorpreso perché mentre in posti dimenticati da dio no come potrebbero essere non so la namibia comunque c'è l'idea di cinofilia in australia avendo tanti soldi essendoci un'economia molto viva cioè ci sono veramente io penso che domani uno parte con una manica una frusta un bastone e un è un una visa permanent e va ad ali springs posto bruttissimo perché sta in mezzo a nulla diventa miliardario miliardario vero altro posto dove viene millantato dove viene millantata questa ipotetica pet friendly culture questa cosa così che vuol dire tutto e vuol di niente sostanzialmente cioè non è che che vuol dire pet friendly culture vuol dire niente assolutamente nulla il canada andate in canada andate in canada e provate a ad affittare una casa che accetti gli animali auguri fate ora fate una ricerca adesso andate su un sito su craiglist canada se fate craiglist vancouver craiglist toronto toronto fate craiglist morrell e cercate una casa pet friendly non la troverete mai mai ora togliete l'australia dove le regole in australia sono fatte per essere bypassate e tenete nuova zelanda anche le regole sono fatte per essere passate prendete nuova zelanda il penisola scandinava togliete l'inghilterra perché chi deve migrare con brexit mi sembra con il no deal alle porte non mi sembra il momento ideale per emigrare da quelle parti e provate a partire se avete due o tre cani e scoprirete un'altra realtà totalmente nuova che in determinate città in tanti posti non puoi avere più di due cani cioè è proprio vietato ti portano il cane ti portano via anche a te cioè tu vai a barnaby che è un quartiere di vancouvero vai a toronto vai a morral con più di due cani non li puoi avere ora voi pensate un italiano ad avere abituato ad avere due tre cani c'è chi ne ha quattro no non puoi averli o addirittura non puoi avere due cani più un gatto non li puoi avere eppure loro per definizione sono dei paesi pet friendly a questo punto qualcuno di voi dirà e ho preso solamente dei paesi per fare un video per per chi lo avevo promesso questo video e perché contrariamente a quello che molti pensano e devo essere onesto contrariamente a quello che pensavo anche io mi stanno scrivendo tantissime persone che vanno via dall'italia e vanno via dall'italia e mi chiedono dei consigli su dove andare e se è possibile lavorare all'estero con i cani si è possibile andare a cercare fortuna altrove ma bisogna conoscere le regole e bisogna capire bene cosa il mondo intende per pet friendly e cosa noi intendiamo per pet friendly ora se consideriamo che la massima esponente per i diritti degli animali per quanto ci riguarda in italia la brambilla a me già avviene la pelle d'oca no io penso alla brambilla con la quale io non potrei confrontarmi cioè se se fossi un un deputato e neanche ci parlerei come fai a parlare con la brambilla di animali che ne sa perché noi confondiamo i diritti degli animali con gli animalisti da noi è diventato territorio degli animalisti l'animalista nulla a che fare con il cinofilo niente non c'entra proprio niente vive in un mondo tutto suo tutto particolare non entro nel merito è però vive in un mondo tutto suo che non ha niente a che fare con quello che è il mondo reale e il più delle fa delle volte lo fa perché per una questione di convenzione quando non è convenzione è per un motivo di convenienza allora a questo punto però resta una questione perché quei paesi vengono considerati pet friendly ricordo escludete l'australia perché l'australia è un paese bellissimo da vedere per quanto mi riguarda è forse il paese più bello dove sono stato ma è ed è anche il paese dove fare più business per chi avesse intenzione di dedicare la sua vita a questa professione ma è anche un paese dove ci si scontra con una realtà di ignoranza che è difficile da trasmettere a persone più o meno normodotate non lo dico con l'offesa nei confronti degli australiani lo dico con come un fatto oggettivo cioè l'australiano ha come mito il cane coatto boro no questo è l'australiano cioè l'australiano è uno che quando parla inglese non lo capisci è ignorante l'australiano è ignorante adesso ed è proprio questa sua ignoranza che permette a chiunque di fare business in australia ed è per questo che le limitazioni per entrare in australia sono per l'appunto altissime perché altrimenti chiunque potrebbe arrivare e fare man bassa in australia davanti a quello che loro non hanno appunto tolta però l'australia non nomino gli stati uniti d'america perché la la situazione è ben diversa cioè negli stati uniti che per quanto mi riguarda resta il paese più più lineare di tutti e più difficile da interpretare perché da stato a stato negli stati uniti cambiano le regole cioè ci sono stati dove tu puoi avere mille cani dentro una stanza di un centimetro dove puoi fare un canile nel tuo giardino e ci sono stati dove puoi avere solamente un cane e di dimensione toy non sto inventando non sto inventando c'è una zona di new york che non credo sia manhattan dove tu c'è una piccola zona dove tu puoi avere solamente un cane ma proprio per municipio di dimensione toy cioè i barboncini voi immaginate dove ad esempio in tutto il midwest quindi la la linea dorsale la forza degli stati uniti ci sono bandog ovunque cioè tu hai questi cani il bandog è un cane del quale mi piacerebbe parlare ovunque tutta la parte del midwest cioè l'america quella vera lo spante quella dei no immaginate un po cioè l'america è veramente difficile o facciamo un altro esempio la francia la francia è un paese dove io stavo la racconto se mi stavano per arrestare in francia voi direte peccato che non l'hanno fatto vabbè non è successo mi stavano per arrestare veramente ora vi racconto anche il motivo di di questa di questa esperienza allora stavamo andando a stavamo andando a vedere una gara di ring francese simile al mondio ring quando ero con degli amici e quando mi sposto il più delle volte per andare a fare queste queste cose capita dell'avere la possibilità di incontrare dei tuoi amici o a metà strada o magari direttamente la io nello specifico avevo appuntamento a savona che non so neanche se si è di strada stavo andando e quindi dico vabbè andando in francia mi fermo facciamo degli attacchi strada facendo e quindi avevo in macchina la manica la frusta e il bastone e la tuta per fare gli attacchi io uso il grembiule perché la tuta mi dà mi dà fastidio e ok facciamo questa cosa da savona e poi continuo per andare verso la francia se non che mi fermano passano passiamo al confine con la francia mi fermano tutto a posto documenti assicurazione ok grazie grazie possiamo guardare dietro prego ci mancherebbe guardano dietro aprono il cofano vedono la manica cambia volto il poliziotto francese cambia volto non mi ha puntato la pistola addosso però ha cominciato ad alzare il tono della voce e a parlare in francese io non capivo ho detto se può parlare in inglese quantomeno posso capire deve seguire deve seguirmi deve seguirci in commissariato come scusa perché non non riuscivo a dirmelo io non capivo perché evidentemente non trovava il termine mi indica la manica e io non capivo cioè io mi dicevo vabbè non capivo il problema della manica morale in francia almeno dove sono stato io e non so se è così dappertutto se non hai il permesso la manica è l'equivalente di un'arma non sto scherzando cioè se da noi ci sono degli sprovveduti che sostengono che il lavoro perché poi il tutto si riduce a essere anche una questione culturale no cioè da noi c'è chi sostiene che se tu lavori con un cane con la manica quel cane non andrà mai sull'uomo al che viene da sorridere perché uno pensa alle forze dell'ordine dice vabbè che usano degli uomini cavia per addestrarli li prendono a carcere e farlo mordere no quindi è evidente che chi dice una cosa simile è quello che è cioè un venditore di fuffa di nulla perché poi questa cosa l'ho riscontrata anche altrove ma dopo averla scoperta vado ovviamente nel commissariato francese viene chiarito l'equivoco e mi firmano loro mi fanno loro un foglio dove mi autorizzano a girare con la manica il tempo del viaggio cioè praticamente sono stato trattato come uno che non faceva parte del trattato di schengen cioè mi hanno detto mi hanno chiesto quanto dura questo viaggio ok hai due possibilità o ci lasci la manica e non ci sarà alcun tipo di procedimento o se vuoi un procedimento o altresì ti firmiamo questo foglio ma tu ci garantisci che sarai fuori dal paese entro questo tempo e ci dici ora quale sarà il tragitto che farai o altrimenti sei passibile di un reato penale penale perché alla manica viene dato in francia e non solo in francia anche in quebec francese anche in ontario anche in qualche stato degli stati uniti ma non vorrei dire una cosa per un'altra quindi mi limito a fare un passo indietro viene dato un peso diverso al peso che gli diamo noi e soprattutto qualcuno che millanta che se lavori sulla manica non lavori un cane che può andare anche sull'uomo allora in francia ed in tanti altri paesi per girare con la manica da addestramento per i cani devi essere autorizzato dalla polizia locale con tanto di visto con tanto di foglio cioè quando entri e quando esci vi sto dando delle informazioni al fine mi auguro del rendervi edotti su questioni che non molti conoscono perché molti stanno emigrando la situazione italiana economica non migliora per molti e quindi si va in giro a lavorare e la cinofilia a differenza di tanti altri lavori che sono più o meno inflazionati che so la pizzeria la gelateria tutte queste qua in cinofilia nel mondo c'è sempre lavoro sempre ora però la domanda che è la riflessione che faccio io è è un po diversa da quello che ho detto fino adesso noi consideriamo a volte a a proposito in molti paesi è vietata perché ho letto una polemica su facebook relativa ad un veterinario che aveva messo un post relativo ad una ciotola fuori ai bar dice non le mettete le ciotole perché possono essere vettori di patologie non indifferenti io sposo sposo quanto detto da questo veterinario io non sono un fattore della ciotolina fuori il bar perché la ciotolina fuori al bar fa sì che ci bevano diversi cani e io non so se ha bevuto un cane che ha avuto una gastroenterite virale e magari ci beve il mio cane anziano e va a morire quindi preferisco se devo andare al bar semplicemente non mi porto il cane che è la scelta più semplice non dico di avere ragione questo il mio punto di vista non la faccio neanche drastica come hanno fatto i altri se esco con il cane ho l'abitudine di portare tutto ciò che serve al cane al fine di far sì che lui abbia un pomeriggio ideale per vivere in sanità quindi mi porto la ciotolina mi porto l'acqua e non lo devo far bere in una ciotola dove hanno bevuto 20 cani che non so che cosa hanno in bocca però da noi contrariamente a tutti questi ragionamenti si dà per scontato che se qualcuno ti mette una ciotola fuori quel posto allora è pet friendly magari lo è nelle intenzioni intenzioni no lo è nelle intenzioni nel libero arbitrio del proprietario del locale stesso però poi bisogna vedere se di fatto questo è un qualcosa di positivo o un qualcosa che va quantomeno discusso per me di positivo la ciotolina fuori non ha niente per quanto mi riguarda ciò non vuol dire che chi la mette lo fa in cattiva fede chi la mette lo fa in buona fede lo fa pensando alle varie brambilla perché questi danni lo fanno gli animalisti e le persone come la brambilla per essere chiari cioè quelle persone che non hanno mai visto un cane in vita loro sono le stesse persone che alimentano quel mercato di randaggismo di cose che fanno un macello cioè queste persone che fanno un macello nel mondo della città ma lo fanno proprio dati alla mano e che quindi entrano dentro al ristorante ma il mio cane non può bere non avete neanche una ciotolina non c'è no una ciotolina perché non è che questi sono persone che dal mio punto di vista fanno solo esclusivamente danni danni ripeto cose accadute parlatene con qualunque veterinario cani che l'unica cosa di male che hanno fatto hanno bevuto fuori ad un bar dove il proprietario in buona fede aveva messo la ciotola tutto qua si potrebbe anche entrare nel merito del gancio per il cane fuori ho sentito credo un comico non ricordo chi dire se c'è il gancio fuori per il cane al bar non entro io come a dire se il cane deve restare fuori al bar non vedo per quale motivo devo entrare io chi lo dice lo dice convinto di avere ragione bisognerebbe capire se fa bene al cane entrare all'interno di un bar e leccarsi tutto quello che trova per terra e questo è un argomento che sarebbe interessante da trattare soprattutto se magari hai un cane no ma è piccolo piccolo si dà una una leccata di aspartame tra cornetti e e zuccheri vediamo quanto questo fa bene al tuo cane ma questa è una nota a margine insomma in molti paesi le regole sono ben più rigide in norvegia in nei paesi scandinavi o entri col cane o non entri col cane in australia lasciamo perdere in canada non troverai mai casa mai casa ma questo che cosa gli dice che ad esempio in canada chi ha il cane chi casa ce l'ha di proprietà chi il cane ce l'ha chi la casa ce l'ha di proprietà ha i soldi chi ha i soldi può permettersi di avere il cane perché il cane è visto come un plus visto come qualcosa in più ed ecco perché quando si decide di emigrare come business come idea è bene puntare determinati paesi che ti consentono delle pezze d'appoggio perché tu sai che se trovi dieci clienti lì quei dieci clienti comunque ti mantengono per tutto l'anno perché hanno bisogno di qualcuno che sappia lavorare i cani io proprio vi sto dicendo troppe cose oggi quindi al netto di tutte queste esperienze il paese più pet friendly del mondo è l'italia perché in italia tutti possono avere i cani 4 5 con i pedigree senza pedigree con l'iscrizione a lenci senza iscrizione a lenci con preso al rifugio salvato un trovadello ma siamo sicuri che abbiamo ragione noi siamo sicuri che è giusto tenere un cane chiuso in appartamento otto ore senza che nessuno ci dica nulla tutta la giornata per poi rientrare portarlo a fare pipì e tornare a casa siamo sicuri di avere ragione noi siamo sicuri che questa libertà assoluta che noi diamo al mondo della cinofilia sia un bene per il cane vi dico la mia esperienza o meglio vi dico la mia sull'argomento noi siamo il paese peggiore ancora oggi io so di cani non mi va di demonizzare la categoria perché la ne adoro molti noi siamo un paese che ancora dei cani da caccia chiusi sei volte a settimana dentro un box che gli va a dare da mangiare il guardiano il guardiano noi siamo il ca il paese dei cani chiusi in un appartamento 8 10 ore al giorno perché sono sono in ufficio i proprietari noi siamo il paese del ho due cani me ne prendo un altro e poi un altro ancora perché sì mi piacciono i cani noi siamo il paese dei canari di quelli che vanno convinti che dicono di voler salvare dei trovatelli li vanno ad adottare si ritrovano a loro volta con tre quattro cani che prendono salvano da un'ipotetica situazione in realtà li vanno a tenere prigionieri in un'altra ipotetica situazione noi siamo il paese dove tutti possono girare con una manica e questo non succede in altri paesi noi siamo il paese dove se metti una ciotolina fuori dal bar fai qualcosa di buono senza esserti informato su quello che potresti fare e allora io mi chiedo persone per l'appunto come la brambilla non dovrebbero sensibilizzare l'opinione pubblica nel dire non uscite nelle ore calde con il vostro cane non è meglio che uscire e pretendere una ciotola dove il cane in caso di necessità berrà e probabilmente prenderà una delle centomila patologie alle quali non può resistere perché il cane naso a terra resiste a tutto è quando ingoia che non resiste a niente altrimenti in natura un cane con un naso a terra con tutti i batteri che ci sono morirebbe dopo 30 minuti ma anticorpi fortissimi il problema è quando ingerisce il fatto che questo messaggio arrivi da me e non da chi dovrebbe arrivare perché semplicemente non lo sa perché usano i cani per fare politica politica è molto grave queste cose dovrebbero essere spiegate a tutti che non serve sembrare belli servirebbe solamente essere bravi meglio ancora se competenti dalla prossima settimana torno con i video sulle razze ovviamente come promesso vi ringrazio ringrazio ancora i miei mecenati ringrazio gli amici che mi verranno a sostenere su patreon ricordate che voglio la telecamera come Stanley Kubrick cioè vogliamo che ce l'abbiamo io e Stanley Kubrick se volete venite a sostenermi qualora così non fosse non siete fuori da niente ovvio è che chi sarà con me su patreon farà un percorso no non farò mai un videocorso mai vi aspetto qua vi aspetto su patreon vi aspetto su itunes vi aspetto su speaker ora dovrei andare anche su spotify vi aspetto un po dove pare alla prossima ciao ciao non siamo un paese per cani ciao